Buongiorno a tutti esista, ma si tratta di sempre di una volta che rischia le classiche quattro caratteristiche castrate nel tempo dalle macchie fotografiche raccate le tigre, o forse sono io che dentro negli occhi quelle fotografie che mi da piccolo mi sono state mostrate, guardate le persone e non vi concentrate troppa fatica a scremare la cultura delle immagini che impedisce di capire cosa veramente mi piace guardare gradite una persona oltre un paesaggio nella visione di tale persone e tale paesaggio assomiglia a migliaia di persone e paesaggio che vende dentro corregge la merda, indiferente, a molti non lo sape le anglie non avete le anglie, in coraggio di risalire la corrente per funzionare la visione del vostro conto al tecnico perché in Stato dovreste scoprire che gli stiamo in rinvento e la ragazza è brutta, che più di un corrente per i vostri amici se si appensano che mettissano perversione per i tagli, per le macchie e le ossa che spuntano sarà un caso, ma i vostri gusti combattono con i cani estetici che nascono e cambiano quando i cani estetici cambiano non importa se discutere le gusti altrui sia inutile anche perché trovo oltre addioso che qualcuno ritenga i miei gusti è un'autosuggestione che serve solo a dare incontro ai gusti delle altre persone oltre se mi facciano un sacquatico scrivo osservazione, capiresti che cosa faccio tutti i giorni io, sì, perché voi sapete solo i statuaggi gli orecchini, i tv, gli occhi anni, le pezzature dei siti, i siti, internet le fotografie ritoccate le fotografie che mostrano solo una parte di quello che c'è da vedere le copertine, i giornali, i disegni un po' grafici perché il trato ormai è comodo i disegni sporchi a forza perché per farvi capire che qualcosa è estemporaneo ed improvvisato bisogna scrivervelo sotto a caratteri totalitari capite i film? se qualcuno che vi sta simpatico ve li spiega altrimenti non vale nemmeno la pena gli sforzati di stare due ore e tenuti in fortuna perché, dio mio, potreste vedere qualcosa che non vi piace la soluzione per voi? il film in bianco e bianco a puto il giornale di una pagina vuoto un lavoro serio di responsabilità e fatica basta e fagioli, carne alla brace la canzone che stavate ascoltando che non traccio tace qui si fai